Tutti ragazzi Oggi i nostri amici festeggeranno l'anno nuovo Tra poco sta per arrivare l'anno nuovo Faremo uscire Animal Detective Film 3 strani leoni Dal 27 gennaio tutti su Big Toy Stradicione al vedere i film Ciao E buona visione Si sta avvicinando l'anno nuovo ragazzi avete visto? Eh già Tra poco è anno nuovo Esatto ragazzi E quindi che facciamo ragazzi? Organizziamo una festa per inaugurare il nuovo anno Eh va bene ragazzi ci sto Scusate ragazzi perché mi avete invitata? Vai ascoltami C'è un nuovo anno che dobbiamo festeggiare Oh io adoro l'anno nuovo Non bastano i nostri amici ragazzi Oggi dobbiamo invitare tutti Gli animali E' vero Vado a prenderli io Ho saputo che stiamo per arrivare il 2021 Esatto piccolo figliolo Stiamo per arrivare il 2021 Comunque che cosa piacciono Mi piace A me piacciono tutte le feste Ok Quindi dove eravamo rimasti Andiamo a invitare a qualcun altro per fare l'anno nuovo Ok Ciao Ciao Lu E' tutto quasi pronto ragazzi Eh già Per poco non ci mancavo Ciao E ciao Tanto Sabrina Eccovi qua Ciao Lu Abbiamo saputo che stiamo per arrivare all'anno nuovo Eh 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 Cià stiamo arrivando all'anno nuovo Allora ragazzi Sì Mancano tanti altri animali con cui festeggiare Ciao Oh eccovi qua ragazzi Comunque a me piace l'anno nuovo Ragazzi Esatto Rimangono altri due ospiti Ciao Ciao Ippo Ho saputo che si sta avvicinando il 2021 ormai Eh già Sono curiosito Ciao ragazzi Eccovi qua Sss Sss Ciao Koa Ciao Lomba Ho saputo che si sta avvicinando l'anno nuovo Sss 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 Rimangono ultimi due ospiti Ciao ragazzi Ciao Lucy Vabbè ragazzi allora tra quando inizia l'anno nuovo Già tra quando inizia Fatemi dare un'occhiata Oh ma è che era solo un minuto Dai dai contiamo Dai contiamo Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Cinque Quattro Tre Due Uno Buon anno Evviva Ce l'abbiamo fatta Eh Evviva E' arrivato il momento di festeggiare Grazie a tutti. Ehi ragazzi, è stato un bel anno nuovo ragazzi. Ragazzi ma questa festa è grandiosa, ho saputo che abbiamo iniziato l'anno nuovo. Esatto, questa è la notte dell'anno nuovo. Comunque è stato un bel anno nuovo, vero ragazzi? Eh sì. Comunque è stato bello festeggiare l'anno nuovo tutti insieme. Già. Bene ragazzi, questo speciale di anno nuovo finisce qui. Mi raccomando, spero che il nostro video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Feliz anno nuovo a tutti.